Tosi ha fatto una scelta, gli facciamo i migliori auguri senza rancore, ha fatto una scelta politica diversa da quella della Lega, avrà probabilmente altri compagni di viaggio, decidono i cittadini in democrazia, quindi saranno i cittadini a decidere se il Veneto verrà governato da Luca Zaia o verrà preso, che è il verbo che a lei piace, dalla Moretti.